La grande partecipazione avvenuta a Lanciano nel corso della manifestazione di protesta contro Ombrina Mare diventa un esempio per le altre regioni, regioni che come l'Abruzzo rischiano di vedere a largo delle proprie coste le trivelle per l'estrazione del petrolio e così il coordinamento di No Ombrina parte in difesa della Basilicata il prossimo 7 giugno. Andremo in questi territori perché l'abbiamo sempre fatto, perché abbiamo fratelli di vita, che hanno gli nostri stessi problemi, per cui saremo in Basilicata il 7, siamo stati questo fine settimana in provincia di Cremona e tante altre cose. Se immediata è stata la risposta degli ambientalisti abruzzesi verso la chiamata della Basilicata, resta fermo l'impegno per salvaguardare la propria regione e parte un nuovo appello al governatore Luciano D'Alfonso. Chiediamo al presidente della regione D'Alfonso cosa ha da dire, soprattutto di andare a Roma e dire a Renzi se ha intenzione di rispettare la volontà di 60.000 persone e di tutto l'Abruzzo o ha intenzione di continuare ad andare avanti in questo modo. Saremmo molto più contenti se questo decreto non venisse firmato, ma qualora dovesse essere firmato noi siamo ancora qui. Devono farli in Abruzzo questi pozzi e in Abruzzo ci stiamo noi, non ci stanno i parlamentari romani.